Ciao, sono Enrico Argentero e anch'io sono stato contagiato. Sono stato contagiato dal benessere, ovviamente. Cosa intendo io per benessere? Beh, sicuramente una sana alimentazione, una vita sportiva, ma che include dell'attività fisica nella vita di tutti i giorni, ma noi di un caffè abbiamo un'ulteriore idea di benessere. Benessere è cercare di far star bene anche gli altri, o no no, provarci. Come facciamo noi? Noi ci siamo inventati uncaffè.org, una piattaforma digitale dove diamo a tutti la possibilità di offrire un caffè a qualcuno che ne ha bisogno. Sicuramente se andrete su uncaffè.org scoprirete meglio quello che facciamo. Vi sto parlando da Campobase, che è il nostro primo luogo fisico qua a Torino, quindi venite a trovarci e mi raccomando fatevi contagiare anche voi dal benessere e dal far bene agli altri.